SABATO 24 SETTEMBRE 2022 Del settimanale l'amico del popolo. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. In primo piano ovviamente le urne per 162.000 bellunesi. Si sa domani, domenica 25 settembre, si va a votare per le politiche. Questo è il titolo chiamati alle urne 162.000 bellunesi. Aperte le urne dalle 7 alle 23 per rinnovare il Parlamento. Le donne, oltre 83.000, superano gli uomini di più di 4.000 unità. Foto di copertina, volontari bellunesi per l'emergenza Marche. Anche una decina di volontari bellunesi sono partiti martedì 20 settembre con la colonna mobile della protezione civile diretti verso le Marche, in particolare nella provincia di Ancona a Senigallia, per dare una mano al sistema dei soccorsi dopo il terribile evento meteo che ha provocato vittime e danni. L'Unifarco pronta a sbarcare in borsa, altro richiamo dalla prima pagina che interessa anche l'associazione bellunesi nel mondo. Prima chiusi dentro, ora chiusi fuori. Il paraghiaccio, la chiesa, la biblioteca, le prese con le bollette, molti spazi pubblici di incontro rischiano di non aprire. Con il lockdown siamo rimasti chiusi dentro nella fase più dura della pandemia, ma adesso rischiamo il lockout, rischiamo di rimanere chiusi fuori a causa dei rincari delle bollette. Prima l'annuncio della chiusura del paraghiaccio di Alleghe, poi di quello di Tè di Cadore e in forse Zoldo e perfino Cortina. Poi la notizia che i paro ci stanno pensando a come fare nella gestione delle strutture legate alla chiesa di fronte alla necessità di risparmiare, soprattutto sul gas e per il riscaldamento. Adesso l'avviso della chiusura della sala di lettura della biblioteca dell'associazione bellunesi nel mondo. Sarà un inverno difficile per le famiglie, per le aziende e per gli spazi pubblici di incontro. I prezzi altissimi di elettricità, gas e legna rischiano di incidere anche sulla socialità in montagna. Altri richiami dalla prima pagina dell'Amico del Popolo, artigianato in affatno per il caro bollette. Salute in tanti per i quarant'anni dell'HACAT bellunese. Chiesa locale, al via l'Istituto di Scienze Religiose, storia locale, le antiche strade delle bellunese. Questa dunque è la prima pagina dell'Amico del Popolo. Adentriamo al cesso interno con la consueto rubrica in provincia e nel mondo. Non possiamo rinunciare a dire la nostra. Un approfondimento dell'Amico del Popolo in merito alle elezioni politiche dall'Ufficio Diocesano della Pastorale Sociale del Lavoro. Il voto è un'occasione importante per diventare i protagonisti del nostro futuro. E troverete anche un promemoria per il voto. L'orario di voto, le elezioni politiche si svolgeranno nella giornata di domenico, ovvero domani, domenica 25 settembre, e le urne saranno aperte per le operazioni di voto dalle ore 7 alle ore 23. Documenti di identità per il voto, carta d'identità o altro documento di identificazione, monito di fotografia, tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione Nazionale Ufficiale in Congedo d'Italia, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché monita di fotografia. Ovviamente in tasca bisognerà avere anche la tessera elettorale e ovviamente no al cellulare in cabina elettorale. Le modalità di voto, il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed espresso per tale lista. e per il candidato uninominale adesso collegato. Si è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale, il voto è espresso anche per la lista adesso collegata e nel caso di più liste collegate il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio. Gli scrutini, alle ore 23 di domenica 25, a conclusione delle operazioni di votazione, si procederà prima all'accertamento del numero dei votanti per ciascuna consultazione e subito dopo il seggio inizierà lo scrutinio delle schede del Senato. A conclusione, il tale di tale spoglio si effettua quello delle schede per l'elezione della Camera dei Deputati. Pagina 3, Longaroni, in occasione dei 40 anni dell'Atac belonese, 600 persone ricordano Vladimir Udolin, tutto questo in occasione dell'Associazione Club Alcologici Territoriali. Notizia di spalle, messo un radiocollare a un lupo del parco per studiarne i movimenti e continuiamo con pagina 7, solidarietà, pensionati di confartigianato, dono di 4.500 euro a cucchini, mano amica e vita senza dolore. Sostegno a chi si occupa di cure pagliative e aiuta le famiglie delle persone ammalate. Notizia anche che riguarda il Rotary Club Belluno, tre borse di studio Rudy De Gasperine per 18.000 euro. C'è tempo fino al prossimo 2 ottobre per partecipare al bando indetto da Rotary Club Belluno della seconda edizione delle borse di studio Rudy De Gasperine. Ancora dalla solidarietà, cambio alla guida di ANFAS, Associazione per persone con disabilità intellettiva e o relazionale. Carlo Bottega è il nuovo presidente. Dalla rubrica vita missionaria, cinquantesimo e rinuncia alla diocesi per il Vescovo Pante. Il Vescovo Virgilio Pante si accigge a consegnare la sua diocesi al successore Monsignor Gioia. Il nostro missionario ha celebrato il giubileo sacerdotale sul Monte Kenya e tra la sua gente. Dai nostri paesi, Belluno schiara la statua regina Alpinorum e tornata al suo originario splendore. Il restauro è grazie al CAI di Belluno e al club Inner Wheel. Attività promozionale, i bistoli oltra suoni, la tecnica non invasiva per tornare a sorridere. E ancora dal capoluogo, sismica, spazi più fruibili, le palestre e biblioteche rinnovate al liceo Tiziano. La provincia appalterà i lavori da quasi 4 milioni entro fine anno. Siamo a pagina 11, Valbelluna, Borgo, bondi turisti stranieri, arrivi anche da oltreoceano. Il 2022 segna l'anno della ripresa post-Covid. Gli accessi alloiati si sono consolidati sui numeri dello scorso anno. Circa un migliaio nel trimestre estivo, ma non più concentrati solo nel weekend. Ponte nelle Alpi, tiro a segno, medaglia d'oro a De Molinera. Ancora da ponte, servizi scolastici tornano gli aiuti alle famiglie. Passiamo in Valbelluna con pagina 12, spazio amico, noi ci siamo, le parole d'ordine sono solidarietà e riciclo accesa. Siamo nel comune di Limana grazie all'impegno e alla dedizione di volontarie. Pagina 13, sedi con nuovo parchè al paracolto. L'operazione è costata all'amministrazione comunale 35 mila euro. Il palazzetto dello sport è una delle strutture più capienti della provincia. E ancora l'evento, la comunità limanese accoglie 25 nuovi nati. Domenica 18 settembre è l'ormai tradizionale festa del bambino. Continuiamo con pagina 15, Feltre, palestra da demolire e da ricostruire, intervento da 850 mila euro grazie ai fondi del PNRR, progetto da approvare entro il 31 dicembre. Questo riguarda le scuole elementari Vittorino da Feltre. Domenica d'Arsono torna alla sempliciotta, flash mob a tutela del futuro della sanità pubblica. Foto che ci porta da Feltre con scritto difendiamo la sanità pubblica giù le mani dalla sanità pubblica. E a proposito di sanità, in netta ripresa l'attività dell'ortopedia sono aumentati i ricoveri come gli interventi e le prestazioni ambulatoriali dopo un periodo di crisi legato al covid e alla carenza di medici. Notizia di spalle, Unione Montana-Feltrina incoraggianti i dati delle presenze turistiche. Continuiamo con il Feltrino con pagina 17, Santa Giustina, dalla giornata della Rosa di domenica 25 alla mostra a mercato della fine del mese, nutrito il calendario degli eventi autunnali. Ancora dal Feltrino sono ripresi i lavori di demolizione dell'ex base nato a Cimagrappa, siamo nel comune di Seren del Grappa, tutto questo dopo una sospensione per non disturbare il gallo forcello. Quero va a Sealano, all'unica lezione di apicoltura e ancora da Santa Giustina dalle 23 alle 5 niente illuminazione pubblica. Anche il comune di Santa Giustina si trova costretto ad affrontare il problema degli ingenti costi energetici che sta mettendo in difficoltà tutte le classi e le categorie. Con pagina 19 passiamo a Cortina, alla materna con 60 piccoli alunni, si torna alla normalità dopo due anni difficili a causa della pandemia. Nicola Colli, stiamo abbandonando il modello di insegnante di sezione. La giudicatore torna alla TBC, un corso al preventorio sabato 24, quindi nella giornata di oggi la TBC e la BPO organizzato da Mauro Schiesaro. Oltre all'attualità uno sguardo alla storia, come si gestiva un tempo la TBC. Costalissoio, siamo in Comelico, nel cinquantesimo di Buzzati, Milano e le Dolomiti, un libro valorizza i percorsi comuni di Buzzati e Luigi Reggianini. Lo studio del museo di Costalissoio è liberamente scaricabile da internet. Cortina, Bobi, il Cio dice sì, presto le ruspe, prima la demolizione della pista storica, da primavera i lavori per la nuova struttura. A Cortino con pagina 23, Voltago, ma servono altri soldi, passi avanti nella sistemazione della viabilità per la strada di Versegala e per il giro della Joa. Sempre dalla Gordino, notizia di spalle, Gurekian, nelle Dolomiti, un progettista armeno. Oanis Guariccian, Costantinopoli 1909, Asolo 1984, fu un ingegnere, architetto e urbanista di origine armena. Ancora dalla Gordino, Selva di Cadore, 15.000 per i dinosauri, pieno successo delle iniziative d'estate organizzate dal museo grande pubblico anche per la Desmonte Gala di domenica 11 settembre. E la Gordino invece è in lutto per la scomparsa della professoressa De Martín, la scuola in particolar modo è in lutto. Un lutto per la scuola a Gordina, mercoledì scorso, 14 settembre, è morta a soli 61 anni all'ospedale di Agordo dove era stata ricoverata Monica De Martina da 30 anni, insegnante al liceo scientifico di Agordo. Ancora dalla Gordino, Falcades e Desmonte Ghea, tre giorni di festa, la tradizionale manifestazione con gli animali e i malgari da venerdì 23 a domenica 25 settembre con tanta musica e balli. Notizia di spalle, Cencenighe, le bambine di casa, i quattro gatti di oggi, riscoprire e conoscere le frazioni dei paesi grazie ai dipinti murali. Ecco un'altra opera che potrete trovare a Cencenighe a firma dell'artista Dugno. Piccoline, ci troviamo nella frazione di Bogo. Longarone, pagina 26, superstiti, progetti in cantiere, l'associazione sta lavorando intensamente e continua a cercare volontari. L'obiettivo è anche restaurare alcuni luoghi simbolo della tragedia del 1963. Notizia di spalle, cultura, ambiente, natura e sport, gli eventi a Longarone. Il 24 settembre torna anche la giornata ecologica, l'appuntamento quindi proprio per questa giornata. Soverzene, studenti meritevoli, le borse di studio, le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre. Per maggiori informazioni visitate il sito del comune di Soverzene. Con pagina 27, spostiamoci in Alpago, Palapieve come nuovo, l'intervento eseguito con celerità è costato 11.000 euro. E sempre dall'Alpago, Borsoi ringrazia i suoi anziani. Andiamo avanti con i nostri interessi. La pandemia ha cambiato la biblioteca, da Ronzo di Cadore, nuovo allestimento e locali ampliati. La bibliotecaria con le norme vigenti sarebbe stato impossibile aprire. Nella biblioteca comunale Luigi Rizzardi sono convinti la confidenza con i libri va incentivata fin dalla prima età. Dalla rubrica in famiglia il conserto articolo a firma di Don Gigetto De Bortoli dove sta la tua dignità, l'innamoramento e amore scambiati per altro rispetto a ciò che anima una coppia sposata. E adesso una notizia che riguarda anche l'associazione beronesi nel mondo. Il museo ABM è accessibile alle persone sorde. Una barriera abbattuta cresce l'inclusività, una delle poche realtà nel panorama nazionale. La LIS, lingua italiana dei segni, entra al MIM Belluno, il Museo Interattivo delle Migrazioni, una scelta maturata da tempo dall'associazione beronesi nel mondo, proprietaria del museo, e che si è potuta concretizzare grazie a un contributo concesso dalla Direzione Generale Musei del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il Turismo, fondo per il funzionamento dei piccoli musei. Un progetto che ha impegnato in prima persona il personale ABM e la Blister, cooperativa sociale di sedico specializzata nella traduzione in LIS. Passiamo alla cultura con pagina 32. Presta ed emina la fiducia dei soprintendenti. Con loro percorsero tracciati battuti da minatori, contrabbandieri e pastori. Il convegno sulle antiche strade. L'appuntamento si è tenuto a Quantin. Sempre dalla cultura inizia da Dino Buzzati la stagione teatrale del Circolo Cultura e Stampa di Belluno illustrato il cartellone degli spettacoli. Continuiamo con lo sport, calcio, prima vittoria della Dolomiti Bellunesi. La formazione di Serie D ha superato per 2-0 il Tor Viscosa, in eccellenza successo per 3-1 dell'Imana Cavarzano sul Carini-Pievigina. Corsa su strada, sfida tra un centinaio di atleti per il campionato provinciale di CSI e ancora corse in montagna, transcavallo estiva, un ottimo riscontro. Concludiamo con una storia sportiva lunga 54 anni, Renato De Moliner festeggiato al poligono di Ponte nelle Alpi. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno, un'edizione dedicata alla lettura del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon fine settimana in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Grazie a tutti.